ci siete tutti posso partire allora vedete che ci sono due torri qua una quella lì con più alta quadrata e una la con le impalcature che sembra rotonda vi ricordate che avevo detto che questa via ansperto quella che sembra rotonda poi vi dico perché sembra è la torre di ansperto che però ha anche attaccato un pezzo di mura massimiana e del terzo secolo l'hanno probabilmente rinominata come torre di ansperto perché che pare che l'abbiamo un po rimessa a posto questa è una delle ragioni non è rotonda a 24 lati anche questa cosa particolare ho già fatto un filmato se andate poi vi darò l'indirizzo si vede anche all'interno perché siamo entrati proprio dentro del museo ecologico cosa che adesso non facciamo perché tardi e dentro la cosa che non sapevo e dentro c'è un ciclo pittorico di un anonimo lombardo del 2 300 dopo il 1000 quindi comunque una roba che ha 800 anni è conservata molto male